Ciao amici popolo di youtube, oggi vi mostro un nuovo setup della Alfa 6003 L'unica sfiga di questa macchina fotografica è che hanno fatto delle uscite solo ed esclusivamente per tolgo questo, vediamo se riesco a farvelo vedere, si, si vede per l'audio poi abbiamo l'HDMI e la micro USB non hanno pensato che un povero cristiano che fa il videomaker debba anche sentire l'audio che sta registrando in presa diretta innanzitutto avrete bisogno di un adattatore da HDMI a VGA direte perché volevamo attaccarci una VGA? no, è che è fatto così, è della JND, vi lascio il link in descrizione così potrete trovarlo e serve perché ha un collegamento che è questo, con un jack da 3,5 a cui vado a collegare un piccolo amplificatore della FIO, credo si chiami, FIO, qualcosa del genere comunque il link in descrizione lo trovate anche per questo e questo accrocchio mi permette di collegare a sua volta le mie vecchie cuffiette audio sul buco dell'amplificatore voilà, ecco fatto il trucco è questo perché adesso prendiamo la nostra Sony lo sportellino è già aperto perché all'interno abbiamo già il jack da 3,5 collegato al microfono della Shure e andiamo a collegare la nostra HDMI accendo il piccolo amplificatore della FIO e ora riesco a sentire in presa diretta il microfono per capire se sto facendo la ripresa a modo o se sto scazzando tutto quanto un piccolo trick che vi potrebbe essere utile anche per l'utilizzo di questa telecamera che non ha un'uscita da 3,5 se non quella che è l'entrata del microfono esterno spero vi sia piaciuta questa chicca un saluto a tutti quanti cliccate mi piace iscrivetevi al mio canale e ci vediamo con il prossimo video ciao